. Vincitore GF VIP 2017, colpo di scena finale, ecco il favorito Wim Zuiden. Grande Fratello VIP 2017 vincitore finale, ecco chi è in testa alle preferenze. Chi sarà il nuovo vincitore del cancelletto Grande Fratello VIP 2017? Ormai manca davvero pochissimo alla messa in onda della finale di questa seconda edizione, che ha regalato grandissimi soddisfazioni in termini di ascolti alla rete Ammiraglia Mediaset. . Settimana dopo settimana gli ascolti del reality show sono cresciuti sempre più fino ad arrivare al record di ben 5 milioni e mezzo registrato lo scorso lunedì sera con una media del 30%. . Ascolti che cresecranno ancora di più in vista del gran finale di questa seconda stagione che potrebbe registrare un vero e proprio boom clamoroso. Cambia la programmazione della finale del Grande Fratello VIP 2017. . In primis vi segnaliamo che la finalissima del GF VIP non si dispiterà di lunedì, bensì martedì 5 dicembre in Prime Time su Canale 5. . Eccezionalmente il reality show condotto da Ilari Blasi lascerà spazio alla messa in onda, il 4 dicembre, della prima puntata dello show music con Paolo Bonolis. . Di conseguenza la finale del reality show di martedì farà slittare la puntata delle Iene show con Ilari Blasi e Teo Mammucari. . Ma chi sarà il vincitore assoluto di questanno, e si porterà a casa il premio finale di ben 100 mila euro, di cui però dovrà devolvere la metà ad un ente benefico? Ecco nel dettaglio cosa dicono i sondaggi di queste ultime ore. . Ecco chi vincerà il GF VIP 2017, siete daccordo?. . Al momento ci sono già i nomi dei primi tre finalisti ufficiali di questo GF VIP 2017, Cancelletto Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Aida Jespica sono riusciti a conquistare il proprio posto in finale e quindi sono tra i papabili triunfatori di questanno. . E possiamo dirvi che il pubblico da casa, che segue e commenta la trasmissione sui social, sembra avere già le idee molto chiare anche sul prossimo vincitore di questa edizione. . . Sì, perché contrariamente a tutte le aspettative, al momento al comando della classifica per il vincitore del Grande Fratello VIP 2017 vi è Daniele Bossari, che ha rifatto breccia nel cuore degli spettatori dopo il racconto shock del difficile periodo in cui ha dovuto lottare contro la depressione, che l'aveva reso un'altra persona. . E così al momento Daniele riesce a battere al duello social la super favorita Giulia De Lellis, che può contare su un vero e proprio esercito di fan che la stanno sostenendo con grande amore sul web. . Cosa succederà a questo punto durante la finalissima del 5 dicembre? Voi per chi fate il tifo? Ditecelo nei commenti. .